Signora, se non smettete di suonare il campanello, io chiamo i carabinieri. La figlia di Barbara Banco non c'è mia madre, ok? Questo video è per motivi personali, sarà postato sui social media per far capire quanto non avete considerazione della privacy delle altre persone. La figlia di Barbara Banco non c'è mia madre, ok? La figlia di Barbara Banco non c'è mia madre. La figlia di Barbara Banco non c'è mia madre. non è qui e anche se ci fosse non avrebbe voglia di parlare con voi non mi sta dettando le cose da dire pure mio nonno la persona che era nella macchina poco fa le ha detto che non c'è mia madre questa è solo una mia opinione personale perché i vostri interventi contro mia madre stanno influenzando non solo la sua vita ma anche la mia è uguale anche per me vale la stessa cosa allora mio figlio è stato influenzato da voi e la mia vita e la sua vita sono distrutte quindi è peggio questo la sua la scelta di suo figlio è stata una scelta personale di che scelta stai parlando? essere influenzati in che modo è stato influenzato suo figlio? è stato influenzato dalle vostre dicerie comunque davvero bisogna parlare con sua mamma non c'è mia madre non c'è mia madre allora ripeto ripeto quello che ho detto all'altro signore che non conosco allora un ragazzo è già morto il mio intanto e ripeto intanto è ancora vivo io ridico se a mio figlio dovesse succedere qualcosa io vivrò il resto della mia vita per vederla in galera e la colpa è al cento per cento nostra di basta signora lei si sbaglia Barbara Barbara ricordati questa cosa se a mio figlio succede qualcosa come a Simone l'unica responsabile sarà in ritenuta a te la colpa sarà tua la morte di Simone non è legata a niente la morte di Simone non è legata a mia madre in nessun modo mia madre ci ha parlato due volte con quell'uomo mia madre non è in casa gliel'ho detto responsabile di quello che succederà io responsabile di quello che sta succedendo la mia vita è che la distrutta completamente distrutta quindi Barbara stai attenta a quello che pubblichi e a quello che fai mia madre non è in casa i carabinieri verranno chiamati tra poco a quello che fai è che la distrutta non è in casa non è in casa non è in casa